L'incidente stradale. Che ha avuto luogo a Rho. Fortunatamente non subirono ferita. La donna che guida aveva un contenuto di alcolici sei volte oltre il consentito. La sua patente di guida veniva ritirata Lorenzo Pastuglia un incidente po' bizzarro si è verificato. Il 4 settembre 2023 in via Buonarroti a Rho. Vicino a Milano. A Lancia Wai. Guidata da una donna in 50 nello stato di intossicazione. Prima ha colpito un panettone per finire finalmente carro funebre di Maserati. Il secondo non conteneva corpi e segnalava meno danni rispetto alla Wai al momento dello scontro. La polizia locale ha assunto il ritiro del ritiro la patente femminile.